nuova giurata il cantante mascherato dopo l'addio di patti bravo e costantino della gherardesca milli carlucci ha scelto arisa la cantante affiancherà gli altri tre giudici flavio insinna francesco facchinetti caterina bali la conduttrice rai ha dato l'annuncio a da noi a ruota libera di francesca fialdini dove ha presentato le varie maschere della terza edizione dello show per arisa si tratta di un ritorno al cantante mascherato la 39 n è stata una delle concorrenti della prima edizione ha indossato la maschera dell'unicorno ora rosalba proverà a smascherare i nuovi partecipanti dopo la vittoria all'ultima edizione di ballando con le stelle in coppia con vito coppola nel salotto della fialdini milli carlucci ha svelato altre due importanti novità della terza edizione del cantante mascherato rispetto agli altri anni misteriosi concorrenti potranno rispondere alle domande dei giurati nella prima e seconda edizione i vip registravano due frasi prima della puntata ora parleranno in diretta con un microfono che modifica le voci in più nella prima puntata del cantante mascherato 2022 ogni concorrente duetterà con un altro personaggio famoso che si mostrerà senza maschera previsti ben 12 duetti nella serata d'esordio che andrà in onda su rai 1 venerdì 11 febbraio